Mister Pagliari, avete segnato forse nel momento in cui non avete giocato benissimo, nel secondo invece, quando avete dominato il pallone, non ha voluto sentire nulla, non è entrato dentro. Sì, sì, così, noi al primo tempo, anche perché davanti c'è anche una squadra che veniva da due vittorie consecutive e sta giocando anche un po' in calcio, però al secondo tempo abbiamo dominato e è un peccato che non siamo riusciti a fare il secondo, però io sono soddisfatto sempre della prestazione dei ragazzi, stanno crescendo, fuori casa volevo una risposta di personalità, ce l'ho avuta, poi se giochi così poi le partite le vinci. Di solito a lei non ne vuole parlare, non so se oggi è il caso di dare un giudizio a una terna arbitrale che forse ha perso la bussola, come ho detto in diretta. Guarda, io ripeto per l'ennesima volta che faccio fatica a allenare i miei giocatori, non alleno gli albitri, sbagliano come sbagliamo noi, come sbagliano i giocatori, perciò chi è che vede, voi siete anche pagati profumatamente anche per... Su profumatamente avrei da ridire qualcosa, ma va bene così visto. Per giudicare loro io non mi permetto perché so anche che è difficile fare l'albitro e adesso si va a una velocità anche... Oggi è stata una partita con pieni capovolgimenti di fronte, perciò devi essere anche fisicamente molto molto allenato, a volte stanno un po' in difficoltà, però bisogna rispettarli e prescindere. Lo zero nella caserla Vittoria Starne è un segnale negativo, è solo una combinazione astrale, diciamo così, o arbitrale? No, noi, levata la partita a San Benetto, questi ragazzi hanno fatto sempre bene, per me caso fuori, giocando così, insomma, non mi preoccupa, ma non è un... i punti sono gli stessi in casa e fuori, noi andremo domenica a fare la nostra partita a Roma, se gli altri sono più bravi bene, però io non penso che noi andiamo fuori casa e si è visto per cercare lo zero a zero, per non cercare di creare. Abbiamo creato tantissime situazioni, il secondo tempo ogni azione era un pericolo per gli altri, perciò quando c'è questo spirito io non sono preoccupato tutt'altro, sono molto soddisfatto. L'ultima per me, però la lascia ai colleghi, Seidu Keita e Mantini già a mille nel corso dei 15 minuti del riposo, poi però ha cambiato idea? No, c'era Manuel che aveva un fastidio, invece andando avanti ha fatto meglio il secondo tempo del primo e allora l'ho tenuto i caldi, mi dispiace, però io devo fare sempre le scelte per il gruppo, ci saranno altre possibilità, il campionato è talmente lungo, hanno giocato fino adesso e ci avranno possibilità che per noi sono giocatori importanti, tutti, tutti.